Ciao ragazzi, scusate, ciao, ciao, io mi chiamo Francesco Palumbo, di cognome, e ho aperto un canale, mi si chiama Francesco Palumbo, normalmente, e che ho fatto? Ho aperto questo canale, ci caricherò dei video, a volte, non lo so, farò due o tre video al giorno, credo, quando ciò, alcuni, vabbè, li farò con il telefono, o con la webcam, a volte, a volte non credo che filmerò dei giochi, ma dei giochi o altre robe, e volevo dirvi anche una cosa, io conosco uno youtuber che lo seguo da tanto tempo, e vi consiglio di andare su quel canale, si chiama FabiJ, ma è stra divertente, e questo vi ho voluto dire, ciao!